Salve a tutti e bentornati sul mio canale! Questa è una nuova serie, la serie della Halo Saga, dove giocheremo tutti i titoli di Halo dall'inizio alla fine, ovviamente la campagna, tralasciando il multiplayer. Siamo qui nella Master Chief Collection perché la maggior parte dei titoli di Halo sono qui e soprattutto perché il primo videogioco di Halo, ovvero Halo Combat Evolved, è qui dentro. Sono su PC, questa registrazione sarà effettuata in 4K a 60fps ed io non vedo l'ora di iniziare a giocare quella che è una delle mie saghe videoludiche preferite. Come vedete qui ci consiglierebbe di iniziare da Halo Reach, ma come vi ho detto anche in un altro video che vi lascio nelle schede, non si inizia da Halo Reach, si inizia da Halo Combat Evolved Anniversary e si segue l'ordine di uscita. Noi entriamo nella prima missione, la Pillar of Autumn, mentre parte questa bellissima musica nel menu principale, aggiustiamo le impostazioni. Interfaccia punteggio e tempo non la vogliamo, grafica di effetti classico, non vogliamo quello rimasterizzato, vogliamo giocare al gioco originale. Anche la musica sarà classica e la personalizzazione della campagna la disattiviamo. La difficoltà la metterò eroica dalla prossima missione, perché se la mettessi eroica adesso salterebbe il tutorial ed è una cosa che non voglio. Voglio farvi vedere anche il tutorial, anche perché danno delle informazioni abbastanza importanti che per quanto riguarda l'armatura è un minimo di contesto del gioco. I teschi non li attiveremo. Ed ora siamo pronti per iniziare. Sappiate che il gioco inizierà abbastanza in media stress. Non ci saranno molte spiegazioni, perché c'è un libro che dà il contesto a questo videogioco, che è uscito qualche mese prima, nel 2001, proprio di Halo Combat Evolved. Si chiama Halo, la caduta di Rich, e in quel libro troverete la maggior parte delle basi che vi servono per capire la mitologia e la lore del mondo di Halo. Detto ciò, iniziamo! Grazie a tutti! Hortana, devo solo sapere se li abbiamo persi. La risposta la conosciamo entrambi, no? Abbiamo fatto un salto nel buio. Come sono? Arrivati qui per prima. Le navi dei Covenant sono più veloci. Ci hanno seguito da Rich, perché alla velocità della luce le mie manovre erano limitate. Viaggiavamo a emissioni zero, no? Solo prima di rallentare. Poi, chiunque avrebbe notato la nostra scia nel subspazio. Ci aspettavano dall'altra parte del pianeta. Allora, qual è la situazione? I nostri caccia stanno terminando l'ultima ricognizione, niente di serio. Ma ho individuato segni di avvicinamento di diversi gruppi da battaglia classe CCS. Tre grandi navi per ogni gruppo. E tra circa 90 secondi li avremo addosso. Allora ci siamo. Riporta la nave al livello di allarme alfa. Tutti al posto di combattimento? Tutti, signore. Tutti. Eh, Cortana! Eh? Accogliamo i nostri vecchi amici come si deve. Ho già cominciato. Attenzione a tutto il personale combattente. Tutti al posto di combattimento. Quinto plotone. Chiudere rampe su conte 11. Quattordicesimo plotone e ventiduesimo tattico alla parattia Charlie 14. L'avete sentito la signora? Datemi da fare! Non è un'esercitazione. Ripetemi, non è un'esercitazione. Ancora una volta, dobbiamo finire il lavoro iniziato dai piloti. Stiamo abbandonando la nave per affrontare i Covenant a terra. Quando incontreremo i nemici, li faremo a polpette! Giusto, Marines? Signore, sì, signore! Mmh, certo che ho ragione. Muoversi a passo di corsa! Attenzione a tutto il personale. Torniamo all'attacco. Contatto esterno e interno imminente. A tutte le reclute che volevano vedere gli alleati da vicino, oggi è il vostro giorno fortunato! Wow! Bene, scongeliamolo. Ok. Sistemi di basso livello attivati. Apertura involucro fra 30 secondi. E' accalto! Rimozione perni! 5 secondi! Tutti i sistemi sono sul verde. Ciclo completo, Edward. Scusi lo scongelamento rapido, capo. Qui siamo tutti un po' di fretta. Il visualizzamento passerà presto. Ma è tornato, signore. Ora la prepariamo al combattimento. Si guardi intorno, per favore. Serve una calibrazione per la diagnosi della sua corazza. Bene, grazie, signore. Monitor dello stato di salute attivi, signore. Guardate in alto a destra la nostra vita che viene caricata. Segni ritari normali. Nessuna abbracciatura da freddo. Ok, ora può uscire dal tubo criogeno. Le ho dato una doppia dose di stimolante. Giri intorno al tubo criogeno e mi raggiunga per la diagnosi ottica quando è pronto. Signore, sì, signore. Ecco, tutta questa parte qui l'avremmo saltata se avessimo selezionato la difficoltà eroica oppure leggendaria. Saremmo passati proprio da tutt'altra parte. Ecco, qui c'è una sorta di bug. La maggior parte delle bug che vedrete in questa Master Chief Collection non erano presenti nel videogioco originale. Sono stati aggiunti da coloro che hanno lavorato alla Master Chief Collection come una sorta di regalo di benvenuto. Certo, io però vorrei aumentare leggermente la luminosità. Vediamo se posso farlo. Perché? Con questo schermo è davvero tanto, tanto bassa la luminosità. Ecco, mandiamola un po' più su. A 6,5. Così. A voi magari non cambia molto, però a me sì. So che di solito i tecnici controllano anche i sensori per la mira, ma abbiamo poco tempo, capo. Guardi le luci lampeggianti e prenda la mira. Appena le aggancia, cambieranno colore. Ecco qua. Ok, sembra a posto. Signore, sto rilevando errori di calibrazione. Provo a invertire la sequenza dei suoi rilevatori di mira. Mi dica se va meglio in questo modo, signore. Provo a prendere la mira. Ecco, così ora sono invertiti. Guardando giù in realtà va su. Io preferisco come prima, quindi cambiamo. Ok, provi ancora a guardare in su e in giù. Vuole che lasci tutto così o inverto di nuovo? Sì, lasciamo così. Lascerò la sequenza normale, ma se vuole potrà comunque invertirla da solo. Allora che cacchio la vorrei fare? Provi per il test scudo energetico. Mi seguo alla postazione del test dello scudo. Andiamo. Gruppi di fuoco. Occupare posizioni defensive da Alfa a Sierra. Rilevati mezzi da bordaggio nemici in avvicinamento. Pronti a respingere gli intrusi. Intanto Cortana sta cercando di abbattere le navi dei Covenant e difendere la pilla Rufodun. Ok, attivate i suoi scudi energetici. Bene, carica degli scudi completa. Ok, signore. Ora li abbassi che testiamo la ricarica automatica. Ricarica normale. L'indicatore segna verde. Ponte a Creo 2 qui è il Capitano Chiris. Mandate subito il capo al ponte di comando. Capitano, così salteremo il controllo delle armi e... Ho detto subito, soldato. Sì, signore. Il Capitano sembra nervoso. Meglio sbrigarsi. Ci penseremo dopo alle armi. Ok, lascia in funzione almeno la diagnosi automatica. No, stanno forzando la porta. Allarme. Intrusi nel Creo 2. Sam, Sam. Svelto. Dobbiamo uscire di qui subito. Povero Sam ci ha lasciati. Da questa parte. Corriamo, corriamo. Accendo anche la luce in modo che magari voi vediate un po' meglio. Ups. Anche lui ci ha lasciati a quanto pare. Scappiamo. Qui ci si deve abbassare. E quelli sono degli alieni. Aia. Non l'hanno aspettato. Oddio. Via, via, via. Ce la faranno da soli? Ok, hanno chiuso la porta. Andiamo, andiamo. E questo sparavano Luke, tra l'altro. Il capitano Keyes ci attende, signore. Questa è infatti la plancia dove si trova il capitano Keyes. Eccolo. Eccolo. Capitano Keyes. Che piacere vederti. Le cose non vanno bene. Cortana ha fatto del suo meglio, ma non potevamo farcela. Una dozzina di supercoranzate dei Covenant contro un solo incrociatore. In queste condizioni mi bastano tre. Facciamo quattro vittime. Dormito bene? Sì, alla faccia di come guidi. Ti sono mancata? Rapporto. Deve essere stato uno dei loro gruppi d'assalto. Direi una carica antimateria. Signora, il controllo di tiro del cannone è disattivato! Capitano, il cannone era l'ultima arma offensiva. Va bene. Sto iniziando il protocollo Cole, articolo 2. Abbandoniamo l'Otun. Vale anche per te, Cortana. E lei cosa farà? Andrà giù con la nave? In un certo senso. Voglio atterrare con l'Otun sull'oggetto che abbiamo trovato. Con tutto il dovuto rispetto non servono altre morti eroiche. Apprezzo il tuo interesse, Cortana, ma non dipende da me. Il protocollo è chiaro. La distruzione o la cattura di un'intelligenza artificiale di una corazzata è inaccettabile. E ciò significa che devi lasciare la nave. Seleziona delle aree di atterraggio d'emergenza. Caricali sul mio laccio neurale e preparati a un trasferimento poco piacevole. Sì, signore. E qui entri in gioco tu. Fa uscire Cortana da questa nave e proteggila dal nemico. Se la catturano, sapranno tutto. Spiegamento delle forze, ricerche sugli armamenti... Terra. Capisco. La OTOM eseguirà manovre evasive finché non inizierà la fase d'atterraggio. So che non mi darà ascolto, ma lascerei gestire la manovra finale alle mie subroutine. Ottimo lavoro, Cortana. Grazie. Sei pronta? Proceda. Ti auguro buona fortuna. La tua struttura non è molto diversa da quella dell'OTOM. Non farti strane idee. Non la tengo mai carica. Dovrai trovarti le munizioni da solo. E così facendo, il Capitano Keys ci ha dato una pistola scarica, però. Di cui dobbiamo trovare ancora i proiettili. Questo è il momento ideale per farvi vedere una funzionalità incredibile di questa Master Chief Collection. Come vedete, stiamo giocando a una versione rimasterizzata di Halo Combat Evolved. Ovviamente la risoluzione 4K non esisteva sulla prima Xbox. Eppure queste sono texture in 4K. Ma è stata rifatta anche la grafica di Halo Combat Evolved. Per quello che si chiama Anniversary. E tra l'altro questo è un frame bellissimo. Dell'Alo. Dobbiamo andare, Capo. E lasciare la nave prima che sia completamente in alto. Sì, va bene, Cortana. Però appunto nella versione rimasterizzata è stata rifatta anche la grafica. Grafica che noi possiamo vedere ogni volta che vogliamo all'interno del livello. Premendo semplicemente il pulsante Back oppure Select. In questo modo. Vedete come hanno rifatto la grafica? Il gioco è esattamente lo stesso. Ma la grafica è diversa. Come vedete. È molto più luminosa in realtà. È molto più luminosa e questo in certi ambienti è meglio. In certi altri toglie un po' l'atmosfera del gioco. Però, ecco, vi ho illustrato anche questa funzionalità che è bellissima. Io mi divertivo un sacco a vedere tutte le zone come erano state rifatte dieci anni dopo. E nella versione Anniversary qui troverete un terminale. Come vedete lì in alto a sinistra c'è scritto Premiere B per usare il terminale. Questo non lo faremo perché è un contenuto che è stato aggiunto nel 2011. Noi adesso stiamo giocando al gioco del 2001. Quindi qui ci sarebbero delle informazioni in questo terminale che andrebbero a spoilerare. Che non sarebbero nemmeno comprensibili a chi sta giocando al gioco per la prima volta. Sono fatte per chi ha giocato alo 1, alo 2, alo 3, alo 3, alo 3, alo DST, alo Rich. E poi si era rifatto alo Anniversary con anche i terminali che andavano ad aggiungere informazioni di lore molto importanti. Ora usciamo. Qui abbiamo dei poster. Di qua è chiuso. E qui dentro tra l'altro c'è un easter egg molto difficile da prendere. Ecco abbiamo ora la pistola. E qui dentro abbiamo dei grunt. Possiamo anche tirare un pugno fortissimo a Covenant. Così. Noi volendo ora potremmo tornare indietro. Una cosa molto divertente è tornare indietro e sparare a tutti compreso il capitano. Volendo potremmo spararli in testa. Non lo faremo. Se volete sapere cosa succede se sparassimo al capitano. Ditemelo nei commenti e vi farò un video a riguardo. Abbiamo anche raccolto un'altra arma ora. Un fucile d'assalto. Ok. Ma ce ne sono altri. Dove è andato l'altro Elite? Qui fuori. Come vedete anche gli Elite hanno delle armature energetiche. Con degli scudi energetici. Infatti noi dobbiamo disattivare i loro scudi essenzialmente. E poi ucciderli. Il modo migliore per tirare giù gli scudi dei nemici, gli scudi energetici, è usare le armi energetiche tipo queste dei Covenant. Ora io per mostrarvelo ne prendo una. Questo è il fucile al plasma. Quindi andiamo. Ecco, io potrei confondermi un pochettino con i comandi perché, essendo abituato ad Halo Infinite, i comandi sono un po' diversi. Purtroppo nel corso della storia hanno cambiato molti comandi. Dando un colpo da dietro ad i nemici, li one-shotterete. Ehi, quanto cattivere questo Marine. Per l'appunto li one-shotterete. La camera di equilibrio è la camera in cui arrivano le scialuppe. È arrivato anche qualcun altro però. Come vedete, lo scudo con le armi energetiche va giù molto velocemente. Guardate. Già distrutto. Ecco, a difficoltà normale, dovete sapere che il gioco è molto facile in realtà. Ora cambiamo arma e proviamo la pistola al plasma. Usando le camere d'equilibrio delle nostre scialuppe per entrare. Noi usciamo e loro entrano. Purvi inbastarvi. Con questa possiamo tirare dei pugni fortissimi a Covenant, come vedete. Proprio così. Boom, boom. Ma possiamo anche spararli comunque. E possiamo tenere premuto e usare un colpo per eliminare completamente lo scudo dei Covenant. Ecco, quelle che appaiono lì di fianco sono delle sfide che nel gioco originale non c'erano, ma sono presenti nella Master Chief Collection. Funziona anche molto bene come arma in sé questa pistola, è fortissima. Guardate, distruttiva. E le armi Covenant non ricaricano le loro munizioni, sono a batteria, quindi vanno cambiate ogni volta. Io qui ora posso cambiare arma. Talvolta sottotitoli non corrisponderanno a quello che viene detto effettivamente a schermo, ma anche questo è un problema della Master Chief Collection, non tanto del gioco originale. Ma che bravi questi marini. Giocando a difficoltà più alte, tra l'altro, potrebbero droppare delle granate i nemici. Mentre a difficoltà normale non le droppano per ora. O a difficoltà facile. Cambiamo di nuovo. E qui abbiamo l'altro sovrascudo. Che se non sbaglio però non possiamo prendere se il nostro sovrascudo è ancora attivo. Qui bisogna abbassarsi di nuovo. Per passare. E qui dobbiamo proteggere dei nostri compagni. Che sono già tutti morti, perfetto. Sono dalle pippe. Ok. E se non sbaglio si va di qua. Accendiamo sempre la luce se non vediamo bene. Guardateli come scappano quando uccidiamo l'Elite. Finché c'è l'Elite loro sono tranquilli, ma appena muore scappano. L'Equipaggio è personale ai punti da 9 a 12. Raggiungere i punti di evacuazione. Fuoco! Oh, colpa mia! Oh, ferma! Mamma mia! Bravo! E l'avevo io! Lo vedi? Ecco fatto. E' il capitano che parla. Pronti ad abbandonare la nave. Squadra e combattimento. Per spingere gli invasori fino all'evapazione del personale operativo. Sganciano le scialuppe. Dobbiamo sbrigarci. C'è un accidente. I Covenant distruggono le scialuppe. Non ci vogliono proprio su quell'anello. Saranno scappati tutti! Esatto, perché noi stiamo cercando di atterrare su quello strano anello che abbiamo visto che è l'alo, ovviamente. Come si vede qui, infatti, non si può andare. Noi stiamo cercando di lasciare la Pillar of Otum e nel frattempo portarci anche dietro Cortana perché non deve cadere nelle mani nemiche. Contiene un sacco di informazioni cruciali per gli umani. Quell'intelligenza artificiale. Rilevo Covenant all'esterno dei varchi d'accesso. Rilevatore di movimento attivato. Troviamo un'uscita sicura. Sono sopra di noi. Troviamo un altro passaggio. Il rilevatore segnala via libera. Aspetta. Dobbiamo passare da quella posta. Non un'esplosione la danneggia. Alle scienze. Il meccanismo di controllo della porta è inattivo, ma è stato gravemente danneggiato. Dovresti riuscire a sfondarla con il calcio dell'arma. Anche questa parte qui non ci sarebbe stata difficoltà eroica. Avremmo trovato la porta aperta dall'altra parte. Ora possiamo fare una sorta di azione stealth. Eliminando anche quest'elite. Come vi dicevo, colpendo i nemici da dietro, vengono one shottati. Li abbiamo disintegrati. Come vedete, la difficoltà normale è praticamente uno scherzo. Cioè, è molto facile. Immaginatevi la difficoltà facile com'è. È praticamente uno scherzo. E guardate dove siamo qua. Sembra che i Covenant volessero prendervi di sorpresa. Dove ci stavano svegliando. Lá in fondo c'è un nemico. Io no. E abbiamo distrutto tutti di nuovo. La torcia è sull'arma. Quindi come vedete quando ricarica, quando si cambia arma. E anche la torcia si muove di conseguenza. Vedete? Comunque questo, pensate che è un gioco del 2001, eh. Tanta roba per essere un gioco del 2001. Va bene così. Come vedete, la difficoltà normale si può praticamente andare avanti a puni. Non ha molto senso giocarlo così. Però ad altronde, per farvi vedere anche il tutorial, che era una cosa abbastanza importante, ho dovuto farlo. Come vedete, quest'arma è potentissima. E qui ci vengono date le granate, che potremmo subito provare contro un mucchio di nemici. Sono fortissime le granate in alo 1. Guardate. Li stiamo distruggendo. Guardateli anche là in fondo. Hanno ucciso Grunt. Bene. Andiamo, andiamo. Oh no! Oh no! No! È il momento ideale per andarsene. Andiamoci. Sì, signore. Ci siamo staccati. Distanza minima di sicurezza. Ce la faremo, vero? Non voglio morire qua giù. Guardate. Che cos'è quello, Talenter? Che ne so, ma ci stiamo atterrando sopra. L'Otom è stata colpita! Lo sapevo. L'Otom sta accelerando. Keys, vai in manuale. Attenti tutti, ci siamo. Tra cinque secondi entriamo nell'atmosfera dell'anello. Sicuro che non preferisci sederti? Andrà tutto bene. Se avessi ancora le dita, le terrei incrociate. E mentre il gioco carica la seconda missione che non giocheremo in questo video, io inizio a salutarvi perché ora metterò subito in pausa. Esatto. E la prossima missione, chiamata proprio Halo, la giocheremo nel prossimo video. La prossima missione è qualcosa di bellissimo. Per i tempi fu qualcosa di incredibile. C'è una mappa aperta, gigantesca, con veicoli, schermaglie, bellissimo. Davvero una delle missioni preferite tutt'oggi per quanto mi riguarda, di tutti gli Halo. Ma parlando della pilla Rofotum, il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare, facendomi sapere anche se hai delle domande sul mondo di Halo, se hai dei dubbi su questa versione. Io nelle mie possibilità, al meglio delle mie possibilità, ti risponderò. E iscriviti al canale per non perderti i prossimi video di questa serie, che sarà una serie molto lunga. Cercherò di fare un livello a video, anche se alcuni livelli, lo saprà bene chi ha giocato ad Halo, sono molto lunghi. Molto molto lunghi. Calcolate che questo è il livello più corto del gioco ed è durato praticamente 20 minuti. Bene, detto ciò, iscriviti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glaciasphere è tutto, al prossimo video.